Daniele è vantaggiato, match winner come si dice in questi casi, ma la prova corale della Ternale è stata importante. Sì, sono contento per la prova della squadra, visto che era una partita molto difficile, il campo molto insidioso, visto anche dal caldo, è un campo stretto per noi. Però, come ho detto prima, sono contento che siamo riusciti a portare i tre punti a casa, che è la cosa più importante oggi. Queste vittorie così sofferte contano anche di più, al di là della classifica, che è ottima, ma non è il caso di guardarla. No, questo non è il momento di guardare la classifica, siamo ancora alla quinta giornata e non serve adesso guardare la classifica. Ci abbiamo avuto già una cosa l'anno scorso, visto che eravamo primi, recuperavamo delle partite e poi invece siamo rischiati di procedere. Quindi la classifica adesso non si guarda, si guarda solo a vincere partita dopo partita. Come abbiamo fatto oggi, sono un campo non tanto facile, molto difficile. E come ho detto prima, sono contento perché la squadra ha risposto bene anche nel momento di difficoltà. Ci racconti il tuo gol? Il mio gol è stato un passaggio di marino, il suo pato di destro, il suo girato e ha calciato in porta. E niente, poi la palla è entrata, quindi sono contento. Un commento veloce sul prossimo avversario, che sarà un avversario diciamo di grido? Sì, la partita di domenica sarà una partita difficile perché è una squadra fortissima e quindi sarà difficile affrontarla. Però io sono fiducioso perché noi siamo una squadra bella compatta e possiamo fare bei risultati con tutti gli altri. Inoltre. Inoltre.